I sentieri della Murgia Materana ospitano spesso corridori amanti della natura o appassionati di nordic walking che anche in una domenica di novembre non hanno rinunciato alla loro escursione mattutina. Sull'altopiano c'è spazio per tutti anche in una giornata movimentata dai 150 partecipanti al Murgia Trail, terzo e ultimo appuntamento della specialità nel calendario 2023 dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Ha attratto atleti anche dalle regioni vicine impegnandoli duramente su un percorso di 15 chilometri. Alle difficoltà già messe in conto, sali scendi, terreno srucciolevole, se ne è aggiunta un'altra imprevista anche per gli organizzatori dell'Atlos Matera, il forte evento. Purtroppo sì, oggi questo evento ha messo un po' in crisi l'organizzazione però diciamo che i partecipanti ci sono, qua è bellissimo perché si divertono, il sole c'è, l'atmosfera giusta per l'evento c'è stato. A divertirsi è stato soprattutto il lucano Emilio Pagnotta che ha bissato il successo della passata edizione tagliando il traguardo in poco più di un'ora di corsa. Ho cercato di correre contro il tempo dell'anno scorso però il vento oggi ha vinto, la natura ha vinto un po' più su di me ma è andata comunque molto bene. È stata invece un'emozionante prima volta, quella di Giussi Criscuolo, vincitrice tra le donne. Questa è la mia prima vittoria assoluta in carriera, non penso che me la dimenticherò mai. Sono anche caduta al sesto chilometro, me la sono fatta tutta col dolore però mi è valsa la pena. La cosa più bella è appunto questo che mentre corriamo guardandoci attorno riusciamo a goderci un pochino di questo spettacolo che è Matera da questo punto di vista, cioè veramente un bel vedere qui.